Dunque, mi sono fatto un po' tutte le missioni secondarie, a parte ovviamente le varie ondate, sopravvivenza, prendi oggetti e simili, ma tutte quante le missioni disponibili per adesso, comprese le varie scatole nere per tutte e due le isole, ci sono. E come vi dicevo, anche le missioni della Black Net a posto per adesso. Quindi, con tutti i potenziamenti disponibili per adesso, andiamo a conoscere la nostra misteriosa informatrice. La discesa. Mercer ucciso padre guerra. Eh già, ma abbiamo scoperto che Maya è ancora viva. Qui Catapult. Abbiamo scoperto che la ribelle civile che usa il nome in codice Athena è Dana Mercer, la sorella di Alex Mercer. Chissà dove potrei trovare un elicottero. Eh già, purtroppo a sto giro ti tocca. Eccoci qua. Allora. Catapult 4-1, qui Catapult, rapporto sulla situazione. Catapult qui 4-1, decollerò per la missione di Dana Mercer fra un paio di minuti, passo. Non credo proprio. Fra un paio di minuti indosserò il tuo volto. Tra un paio di minuti sarei dentro di me. Non nel senso sessuale. Ecco fatto. E uno ce l'abbiamo. Che è successo ragazzi? Qualcuno per caso è esploso? Mannaggia. Dobbiamo fare attenzione. Ah, orca miseria. Che cavolo sta succedendo qui? Kabum. Orca miseria. Mannaggia ragazzi, voi avete visto chi è stato? Ecco fatto. Appena si è girato il tizio. È il momento di salire. Catapult 4-1, dove siete? Catapult 4-1. Sto arrivando, sto arrivando. Soppo. Sto sostituendo Catapult 4-1. Un brutto gli ha appena staccato la testa. Un brutto gli ha staccato la testa. È una roba normale. Vai tranquillo. Catapult 4-1 in rotta verso la zona rossa. Ritmuto 4-1. Buona fortuna. Ne avrete bisogno laggiù. Eh beh, immagino. A tutti gli elicotteri Catapult. Queen Locksmith. Benvenuti nella zona rossa. Raggiungerete Catapult 4-3. Benvenuti in questa fogna di merda. Con tutto il rispetto. Pensavo stessimo cercando Dana Mercer. Non preoccuparti 4-1. Abbiamo un camion del segnale al Cital che sta rintracciando Dana Mercer. Come faccio? Ah, ecco. La sensazione consiste nel proteggerlo. Se ci riusciremo, troveremo quella puttarella. Aha. Quattro 1. Comunice che sia un verginello della tua rossa. Duh. Sì, più o meno. Più o meno, eh. Tutto a posto. Vai tranquillo. Ce la farò, ce la farò. Kabum. Tutto ok. Guardavo il paesaggio. Oh, oh, calmo. Guardavo il paesaggio, guardo. Però, oh. A parte gli scherzi, dettagliati i palazzi, eh. Fatti veramente benissimo. Anche quello schifo là. Wow, incredibile. Arriviamo subito, allora. Arrivo, arrivo. Difendi gli oggetti. Difendite gli oggetti lanciati. 4-1, 4-2, avete sentito l'ingegnere? Proteggete quel camion. Ma porca miseria, è caduto... Ha ricevuto Locksmith. Ricevuto Locksmith. È caduto un elicottero perché mi ci sono appoggiato sopra. Ah, ma non devo neanche starci sopra per forza. Ah, e allora... È un'opzione stare su sto elicottero. Ecco qua. Opzione che per il momento terrò in considerazione. Dai. Smettila di coprirti, su. Ma porca miseria, è scappato. Ma porca miseria. Oh, sta distruggendo tutto da solo quello, eh. Ecco fatto, finalmente. Ne arrivano altri. Eccoli là. Belli loro. Ok. Difendi. Ah, no, non è vero. Mi serviva per forza, allora. Mi serviva per forza stare qua sopra. Dai, lanciatemi qualcosa, forza. Fermo lì, tu. Preso. Ma porca... Ecco fatto. Eh, ne arrivano altri. Imparatevi a difendere un po' da soli, su. Che cazzo. Non è che posso fare tutto da solo io, eh. Che cosa è arrivato? Un'idra? Ecco fatto. Dai, bella. Preso. Le idra sono più facili da prendere che i bersagli piccoli. Eccolo lì, un juggernaut. Vai. Preso. Dai. Preso. Bella la zona rossa, comunque, eh. Mannaggia. Oh. Stai buono, tu. Presi. Ok. Eh, devo fare attenzione a non colpire io ciò che dobbiamo proteggere. Mannaggia. Ecco fatto. E ok, un'idra è andata. Dai. Due idra. Andati. Perfetto. Ma porca. No, di nuovo il gigantone. Ne cacchio. Questo è difficile da tirare giù in elicottero, mi sa. Il Bahamut. Eh, lo so, lo so, aspetta. Ecco fatto. Eccolo lì. Dovevo scendere subito. Volevo prima togliere quelli piccoli, cavolo. Volevo togliermi di mezzo quelli piccoli, invece. Eccolo lì. Eccolo lì. Ho le coordinate. Le sto scaricando su una chiavetta. Che cazzo? La terra sta premando io. Duh. Oh, merda. Lod Smith, evacuatemi subito. Evacuatemi su arrivo. Spregati, sali. Correte. D'accordo. Devo raggiungere. Tra base Hotel 27. Quando i dati verranno, decodificati, sapremo dov'è Dana Messer. Ma io questo lo posso distruggere o no? Ho l'idea che mi sa di no, eh. Dovrai tornare sul campo per attaccare Dana Messer. Ha ricevuto, Lod Smith. Basel Hotel 27, qui Lod Smith. Mi sa che no, eh. Va bene, me ne vado. Contazione assoluta. Avvite subito la piattaforma. Lod Smith, qui Greenback da Hotel 27. Piattaforma disponibile per l'atterraggio. Passo. Va bene, arrivo subito. Peccato, voleva un bel po' di punti esperienza quello. Eccomi qua. Aspetta un secondo. Perfetto, distrutto il localizzatore. Nessuno si fa domande. Ho bisogno di un'unità di decodificazione e di un terminale Black Red, subito. Siamo scesi anche noi? Ok, no, noi no. Perfetto, ci vado subito. 4-4-1, hai la posizione. Colpisci quelle coordinate con tutti i venti che hai a disposizione. Certo. E quella troia dalla forza della terra. Passo. Boia. Ha ricevuto, Lod Smith. Un po' eccessivo, eh. Vi garantisco che non la vedrete mai più. Duh. Eh, eccoci qua. Forza. Anche perché, onestamente... Donna Mercer. Eh? Chi è? Chi cazzo ti ha dato il mio numero? Ora tutta la Blackwatch ha il tuo numero. Duh. Merda, sanno che sono qui. Ti sto mandando delle coordinate. Ci vediamo lì tra un'ora, ok? Ci sarò. Ci sarò. Eh, eh, eh. Predatore e preda. Minchia, quanti punti esperienza. Rimosso dai ricordi. Grazie a tutti.